La piazza del Campidoglio di Roma e gli auguri di Danilo Gallinari. È stato un buongiorno speciale per il trofeo delle regioni Cesare Rubini Kinder Piosporo 2015. Ho avuto la fortuna e la bravura di vincerlo, mi ricordo ancora il finale con il Lazio, è stata una bellissima esperienza di cui ancora oggi parlo con i miei amici o i miei compagni di squadra, quindi divertitevi, godetevela e ancora una volta in bocca al lupo, a tutto motore, ciao! 540 ragazzi Under 14 ed Under 15, i rappresentativi regionali giocheranno ogni giorno fino al 6 aprile. Ma che cos'è il trofeo delle regioni? Il trofeo delle regioni rappresenta una delle manifestazioni più importanti del nostro mondo del basket, perché racchiude le famiglie, racchiude ovviamente i ragazzi, i ragazzi giovani, racchiude la scuola. Abbiamo l'onore di ospitarla in questa città, volevamo mettere in disposizione ciò di più bello che abbiamo, la piazza Michelangelesca, una giornata di sole meravigliosa, che è classica di Roma, quando dà il meglio di sé e appunto la cornice migliore per un bel torneo che magari ci consentirà nei prossimi anni di risentire qualche nome che vediamo oggi di questi meravigliosi ragazzi, magari calcare il parquet delle varie serie e magari dell'anzionario. Peraltro quest'anno è ancora più importante perché viene fatta in una città come Roma, viene fatto e presentato nella piazza del Campidoglio, che è una delle fazze più conosciute al mondo e più famose nel mondo, e poi perché in questo periodo pasquale tutte le famiglie li seguono e quindi ci sono numeri eccezionali. Ci sono 107 gare in tutto da giocare, per cui ci siamo in tutto motore ragazzi.